Salve a tutti di nuovo. Tempo fa avevo fatto una mini serie di video sui presunti rapporti tra la sinistra, in particolari modo Marx e il marcosismo, e la massoneria. Sono venuti fuori 5 video dove parlavo, parlavo e parlavo, con la mia orribile voce, per cui ho pensato di fare una breve sintesi. Per approfondire potete vedere gli altri video e soprattutto leggere le fonti in descrizione, tra le quali c'è anche un documento della Gran Loggia d'Italia. Sappiamo che Marx era di origine ebraica, ma la sua famiglia si convertì al protestantesimo, cambiarono i nomi ebraici, ma non erano credenti. Marx addirittura viene considerato come antisammita perché criticava degli aspetti della mentalità ebraica. Non ne abbiamo le prove che fosse massone, potrebbe anche essere, sappiamo che lui ed Engels fecero parte della Lega dei Giusti, che era un'organizzazione paramassonica, ma l'anno dopo, nel 1848, gli stessi Marx ed Engels la trasformarono nel Partito Comunista. In breve il loro pensiero è questo. La massoneria è il partito della borghesia, il liberalismo è l'ideologia borghese, rappresentato dalla massoneria. Essa ha avuto compito nella storia di prendere il potere a discapito dell'aristocrazia, come nella rivoluzione francese e in quella americana. Ma adesso è la borghesia che deve essere sconfitta, il proletariato deve prendere il suo posto. Il Partito degli Operai è quello comunista. Quindi il Partito Comunista si oppone alla massoneria esattamente come il proletariato si oppone alla borghesia. Inoltre criticavano la segretezza e la ritualità dei massoni. Inoltre Marx accusava Prudon, Bacconini e Mazzini di essere massoni, anzi, per loro la prima internazionale era massonica e borghese. Però Bacconini e Prudon accusavano lo stesso Marx di essere un giudeo esattamente come i Rothschild, non so chi avesse ragione tra i due. Per Marx lo scopo della massoneria era di infiltrarsi nei partiti rivoluzionari per farli fallire. Dopo Marx, durante la rivoluzione russa, i mischiavichi erano quasi tutti massoni, infatti loro era un pensiero socialdemocratico e non comunista. Infatti i socialdemocratici cercavano un compromesso tra capitalismo e istanze proletarie. Anche Bernstein, il padre della socialdemocrazia tedesca, era massone. Una volta che la borghesia aveva preso il potere togliendolo ai nobili il proletariato, doveva prendere il potere di quest'ultima, e così ci fu la rivoluzione d'ottobre. Anche Lenin si era occupato della critica alla massoneria, in particolare della Fabian Society. Trotsky aveva scritto dei testi contro la massoneria e fece in modo che la seconda internazionale desse l'ordine di espulsione di tutti i massoni dai partiti comunisti, cosa che purtroppo fallì. Nel sito della Gran Loggia d'Italia c'è scritto che il comunismo si opponeva alla massoneria perché era contrario alla fratellanza e all'uguaglianza tra gli uomini, mentre il marcosismo proponeva di lottare contro gli sfruttatori. In Italia il PSI era diviso in riformisti e massimalisti. Tendenzialmente, ma non sempre in realtà, i riformisti erano massoni o pro-massoneria, i massimalisti erano antimassonici. I riformisti tentavano anche loro un compromesso tra capitalismo e socialismo. Nel 1914 vinse la mozione antimassonica e fu proibito ai socialisti italiani di essere massoni, ma nel 1922 quasi tutti i massimalisti antimassonici fondarono il partito comunista. Tra questi c'erano Madeo Bordiga, che scrisse alcune opere contro la massoneria, Antonio Gransci, che riteneva che il fordismo americano e l'imperialismo erano opera massonica, e fu il primo a mettere in evidenza l'origine massonica dei Rotary Club. I comunisti italiani sostennero la mozione di Trotsky nella seconda internazionale per fare spellere i massoni dei partiti comunisti. Lo stesso divieto fu mantenuto nella terza internazionale, in tutte le dittature comuniste tranne che a Cuba, anche, nel Partito Comunista Italiano e nel Partito Democratico della Sinistra, dopo lo scioglimento del PC, era proibito ai massoni di avere la tessera. Tutte le informazioni le trovate nei link in descrizione. Con ciò credo che sia abbastanza chiaro che è assurdo accusare i comunisti di essere giudeo-massoni. Anzi, dovrebbero essere i nemici numero uno della massoneria. Se poi il fascismo scimmiotta il comunismo non è colpa del comunismo. Mussolini faceva parte della mozione antimassonica dell'ala massimalista del Partito Socialista Italiano. Bombacci, uno dei più stretti collaboratori di Mussolini, era uno dei fondatori del Partito Comunista d'Italia insieme a Gramsci e a Bordiga. Per cui, mi pare chiaro che i fascisti rubino le idee, e dare del fascista uno che si oppone alla massoneria è ridicolo. Spero di essere stato chiaro, un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video.